Ciao a tutti amici, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Anna e oggi siamo su una mappa che si chiama Parkour Easy, quindi penso che sia semplice. Quindi, spero che questo video vi piaccia e ora buona visione! Ok, allora queste sono, penso, le regole. Giocare giù, no pacifico, quindi vuol dire... dica, dica tu, dica! Boh, io metto pacifico. Massimo, se c'è qualche volta, metto pacifico. Comunque, volevo dire che scusate se non ho fatto i video oggi, a parte adesso, che è un po' tardi però, è perché ho avuto da fare, soprattutto, cioè, stamattina ho avuto molto da fare, quindi non sono riuscita. Poi adesso sono andato ad andare via, ora sono tornata adesso, quindi scusate. Beh, è facile da questo parkour. Si chiama Parkour Easy. Io non sto neanche leggendo i cartelli, però non capisco niente, quindi non... Nivello due, quindi livello due. C'è stato sentito una canzone molto bella. Sì, però non è... è troppo semplice il campo, capito che è semplice, però... Dove sto andando, scusate? Ma perché sto andando di qua? Non lo so. Ho cambiato... ho svegliato strada. Oh, aiuto. Ho scusato. Ho scusato. Ho scusato. Uiii... Durma. Durma. Va bene, durma. Durma. Durmiamo tutti assieme. Guarda. No. Ho... Ma! 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 Guarda, ma! Sono venuta fuori dalla mappa! Questo doveva essere nel programma, nella mappa. Un' per caso. Il mondo buono. Allora, oggetto, no non oggetto, incanta, prendiamoci qualcosa, tipo un piccone, mettiamo tocco di velluto così, ecco possiamo rompere pure questi blocchi, oh grazie mille, excuse me, questo non fate finta di niente, io non ho fatto niente, colpa vostra che avete sbagliato tutto, ecco, io mi tengo il piccone della forza, così, scusate, meglio non morire, mi dico, perché sennò torno sempre fuori, ok, non penso che si riesca a morire in questa mappa, livello 3, è livello 3 domani, poveri polletti, questo qui è incastrato, non può più uscire, è rimasto lì bloccato, povero polletto, mi dispiace, rimarrà lì per sempre, incastrato così, ma dove sto andando, scusate, Oh, si sta un pochino difficoltandosi, difficoltandosi, cosa vuol dire difficoltandosi, vabbè, allora, dai un po', spero che non sia finita, vero, sennò io mi arrabbio con le persone che ha caccato questo mondo, questo livello, perché a volte le persone fanno, aiuto i messaggi, basta, questi messaggi, ok. Facciamo video, facciamo video, facciamo video, sui video a 360 gradi di fnapple, faccio adesso, farlo te adesso, dittemi che non è finita, vero, penso di no, spero proprio di no, devo entrare dentro quella così la, ma come faccio, ma sono morta, questa volta sono nata qua, ma che cosa significa, aiuto, che sta succedendo, ok, poi sottotitola, arrivo, cielo, arrivo, anche sto facendo un video, ti prego, un cuore con la canzone, no, lo sai che ti mettono il copyright, se te la sento, è vero, sì, dica una canzone vera, però, per la persona che l'ha fatto, sì, ho appena scoperto che, se vado qui, non succede niente, muoio e basta, quindi è finita la map in poche parole, però è giusto che non voglio far finire il video qui, è giusto che è durato troppo poco, facciamo una cosa molto, 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 bella, sapete, ora gli faccio una cosa, sapete cosa sono queste? Tritoli, cioè TNT, sapete cos'è questo? Acciarino, quindi facciamo i spade tutto adesso, che io faccio sempre spade tutto, mondo, io so che sono invincibile, non mi posso fare niente, quindi... e quindi... ... 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 Sto facendo esplodere, però vabbè, ora è giunto il momento di accendere la TNT, in un'altra zona, non si vuole. Ok, questo qua non ci scappa, fai una spread di serie da live, fai 100 secondi. Mi sta laggando il telefono, aiuto, 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 vedo ancora le TNT anche se sono già esplose, ah ecco. Sì, è esplodente il mondo, però non è ancora distrutto tutto, non va bene. Mi sta laggando un sacco il telefono, e vedo ancora le TNT. Perché si blocca? Non lo so, Lollo, non chiedermelo a me, si è bloccato. Perché comunque non so, vedo ancora le TNT, come è possibile? Bug? Ah ok, ok, si è sbuggato. Anche mai si era bugato, non vedevo la TNT. Scusate. Ecco, visto, ma zia dell'Anna che si avvicina. Ecco, questo è diventato il nostro bellissimo parkour, cioè, l'unica cosa che è rimasta è quella torre lì che, vabbè, che è fatta a mezza di co... di... si chiama lì. La lava lì, e quindi è rimasta ancora, però. E adesso è ancora il pozzo di lava? Come è possibile, se è ancora... ah, io è giusto. Però se faccio così. No, perché sto bruciando? Ah? Vorrei stare un po' sotto terreno. Ok, vado, io vado a spegnermi, grazie, vorrei... Ah. E ok, ma io voglio tagliare questa TNT, aspetta. Questa lava, volevo dire, non tiene più. Ma quanta lava c'è? Ora scopro che c'era qualcosa. Ah, ma non c'è niente. Non tu, se no, avevo fatto un bellissimo fail. Ok, con questa bellissima panorama. Aiuto! Aiuto, mi sei bloccato! Perché mi si deve sempre bloccare il telefono? Cioè, i touch. Oh, touch. Riprenditi, grazie. Con questa bellissima... Non so, non so come fare la copertina con questa cosa adesso. Ops. Ma aiutimi! Aiutimi! Come si è bloccato tutto! Aiutimi, faccio il secondo pausa. Mi sa che è Mobizen che me lo fa così, perché quando tolgo Mobizen... Ok, con questa bellissima esplosione dietro la schiena posso finire il video qui. Spero, al fine è venuto abbastanza anche lungo. Spero che questo video vi sia piaciuto. No, 9 minuti. Spero che questo video vi sia piaciuto. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti! Ciao! Ciao!